Un gesto vigliacco, dato alle fiamme in una periferia difficile di Reggio Calabria, uno dei simboli del Natale. Il presepe incenerito era stato allestito dagli scout. Maxi il sequestro di beni, nei guai un imprenditore cosentino già condannato per bancarotta fraudolenta. Sigili a un patrimonio da 22 milioni di euro. La giornata della trasparenza al palazzo della regione dipendenti, politici e burocrati fanno il punto sulle buone prassi amministrative con il presidente dell'Istituto Nazionale Anticorruzione, Federico Bergaminelli. Uccisa due volte, rimane impunito l'omicidio di Roberta Lanzino a distanza di 29 anni, assolvendo l'unico imputato alla Corte d'Appello conferma il verdetto di primo grado. Amministrazione al Capolinea, si è dimesso il sindaco di Mileto, Domenico Antonio Crupi, alla guida dell'Ente dal maggio 2014. Nelle ultime settimane era franata la maggioranza che lo sosteneta. Bentrovati con l'informazione di la CTV e benvenuti all'edizione serale del nostro TG. Tragedia sfiorata stamattina sulla 2, un autobus diretto a Catania si è ribaltato nei pressi di Villa San Giovanni, molti i feriti tra i passeggeri a bordo. Poteva essere una tragedia devastante, invece per fortuna l'incidente di stamane sull'autostrada del Mediterraneo, tutte 45 i protagonisti potranno raccontarlo. Un fulman della Baltur partito da Urbino, città marchigiana che fa provincia con Pesaro e diretto a Catania, con 45 persone a bordo, stava percorrendo appunto l'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, quando intorno alle 6 del mattino, all'altezza dello svincolo per Villa San Giovanni, per ragioni ancora da accertare, il conducente ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato sul fianco sinistro. La tempestività dei soccorsi da parte dei vigili del fuoco, polizia, carabinieri, ANAS 118, ha permesso di estrarre immediatamente dal pullman tutti i passeggeri e i due autisti e provvedere con rapidità la messa in sicurezza del mezzo. Immediato è il trasporto di tutti i presenti, con ogni mezzo disponibile, ambulanze, vetture delle forze dell'ordine, ma anche auto private, al grande ospedale metropolitano di Reggio per gli accertamenti del caso. Al plesso dei riuniti, vista la situazione, è stato subito attivato un piano straordinario d'emergenza ed è in via d'attivazione una linea telefonica informativa dedicata. Dieci persone sono poi risultate ferite, tutte in modo lieve tranne una donna, le cui condizioni sono risultate serie, al punto che i sanitari si sono riservati da prognosi, la donna non verserebbe comunque in pericolo di vita. Per i pazienti che saranno dimessi è stato approntato e riuniti apposito mezzo di trasporto. Quanto all'autostrada, il tratto interessato della carreggiata Nord-Sud è rimasto interdetto al traffico per circa tre quarti d'ora, proprio per rendere agevole l'intervento. La polizia stradale è invece al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. A Catone di Reggio Calabria dei vandali hanno dato alle fiamme il presepe allestito dagli scout in piazza Matteotti. A Catone, estrema periferia Nord di Reggio Calabria, pochi pasti dalle colline di Argilla e dal Ghetto Roma hanno voluto bruciare anche il Natale. Non è un modo di dire, nella notte in piazza Matteotti ignoti balordi hanno dato alle fiamme il presepe realizzato dagli scout del gruppo Catona 1. Difficile dire quale matrice abbia esattamente un gesto comunque spreggevole, anche qualora si configurasse come una bravata, per le modalità allesive dello spirito natalizio e della sensibilità religiosa, perpetrato peraltro nel difficile quartiere regino teatro di alcuni tra i più recenti delitti di indrangheta, dall'uccisione di Tariq Caccia all'omicidio ai danni del tabaccaio Bruno Ielo. A noi ce l'ha riferito mia madre in persona, ci ha chiamato e ci ha detto che stava bruciando il nostro presepe, quindi siamo accorsi qui e c'era presente una volante della polizia e i vigili del fuoco. Attualmente proviamo semplicemente dispiacere perché è stato attaccato appunto un gesto che è cristiano ma che appartiene a tutta la comunità catonese. Esprimono il loro sdegno per la distruzione della natività nel cuore di Catona il sindaco Giuseppe Falcomatà e il consigliere comunale Enzo Marra che rammentano come peraltro proprio piazza Matteotti nei prossimi mesi sarà riqualificata grazie al patto per la città metropolitana. Parole di vicinanza aggiungono anche dall'associazione della vicinissima Salice Nuova Solidarietà e il segretario questore di maggioranza del consiglio regionale Peppe Neri stigmatizza quella che definisce un'offesa per l'intera comunità e lancia il guanto di sfida. Ricostruiamo il presepe da Reggio Calabria per la Cineus 24. Un altro atto vandalico nel Regino. Persone non identificate hanno danneggiato a Brancaleone la sede del centro recupero tartarughe marine. Lo ha reso noto il responsabile del centro Filippo Armonio che ha presentato una denuncia ai carabinieri. Con pietre e spranghe i vandali hanno ridotto in frantumi le finestre della struttura. Alcuni pezzi di vetro sono finiti nelle vasche che ospitano le tartarughe ferendo gli animali. Ancora cronaca. Maxi sequestro di beni pari ad oltre 22 milioni di euro disposto dalla procura di Cosenza ai danni di un imprenditore già condannato per bancarotta fraudolenta. Nella conferenza stampa convocata in procura Mario Spagnuolo insieme all'Aggiunto Marisa Manzini e ai vertici provinciali della Guardia di Finanza ha spiegato in che modo attraverso un sistema di false fatturazioni e di operazioni contabili fittizie l'imprenditore cosentino Antonio Ioele, 43 anni, operante nel settore della compravendita di automobili, aveva costituito un capitale di provenienza illecita successivamente investito in una serie di altre attività economiche intestate a propri familiari e congiunti. Nel mentre l'uomo aveva depauperato di beni la propria società accumulando ingenti debiti anche verso l'erario ed incappando nel reato di bancarotta fraudolenta. Per questo nel 2016 era stato arrestato e posto ai domiciliari subendo anche la condanna a tre anni di reclusione. Da allora la Guardia di Finanza ha iniziato una minuziosa indagine per ricostruire le condotte del Ioele ed individuare il patrimonio occultato pari a circa 22 milioni di euro oggetto del sequestro di erno operato dalla Procura. I provvedimenti di sequestro di confisca dei beni a seguito di un procedimento di misura di prevenzione, così come sono applicati nei confronti dei soggetti indiziati da appartenere ad un'associazione di stampo mafioso, sono utilizzabili anche nei confronti di quelle persone che non commettono reati di tipo mafioso ma reati di criminalità economiche. Antonio Ioele è considerato soggetto fiscalmente pericoloso per ripetuta evasione fiscale. Questo ha consentito di procedere al sequestro preventivo di beni a lui riconducibili anche se entestati ai familiari, nello specifico i due genitori e una sorella. Si tratta di tre complessi aziendali, 19 fabbricati, una villa di pregio, due capannoni industriali di vilevanti dimensioni e tre appezzamenti di terreno. Salvatore Bruno per la Cineus 24. Ci spostiamo in provincia di Vibo Valenza. Si è dimesso il sindaco di Mileto. Poche ore fa è stato scritto l'ultimo atto dell'amministrazione di Domenico Antonio Crupi alla guida del Comune dal maggio del 2014. Nel corso del Consiglio Comunale il sindaco dopo aver preso atto di quel che rimaneva della sua truppa dopo le dimissioni dell'ex assessore Pasqualina Arena e quelle dell'assessore alla pubblica istruzione Angeli Cariso ha rassegnato le dimissioni ponendo fine al suo mandato elettorale. E' ancora politica. Vibo Valenza, clima infuocato nell'ultimo Consiglio Comunale dell'anno, passa una variazione di bilancio da 7 milioni di euro e il sindaco Elio Costa ribadisce la distanza dai partiti. Spara nuovi fuochi d'artificio il sindaco Elio Costa nella seduta di fine anno di un Consiglio Comunale in cui i gruppi di maggioranza rimangono ancora civici. Primo cittadino rispondendo piccato al Democrat Giovanni Russo che gli ricordava il peso dei tre assessori berlusconiani fedeli a Giuseppe Mangiolavori ha replicato Stizzito ma il particolare stazionamento alle sue spalle di questi due consiglieri la dice tutta su un malinteso che dopo il voto di marzo potrebbe chiarirsi. Il presidente Stefano Luciano, fresco del passaggio d'alternativa popolare e del divorzio da Forza Italia, ha seguito gran parte della seduta non dal suo scranno super partes ma tra quelli della maggioranza. Insieme all'altro capogruppo Gregorio Polistina ha tenuto forse a tranquillizzare sulla tenuta dei numeri ma in tanti pensano allo stai sereno con cui Renzi salutò Letta prima di spodestarlo. Presentimenti nella consigliatura di assetto variabile che non hanno fatto passare in secondo piano la variazione di bilancio ingentissima approvata. Il mutuo è di circa 7 milioni di euro. Con questa azione che però davanti l'amministrazione pensiamo di uscire presto e quanto prima dal dissesto. Sul punto le contestazioni di Pasquale Contartese che ha definito il legittimo l'atto ritenendo ingiustificato il fatto che la variazione sia stata approvata prima dall'aggiunta e poi ratificata dal consiglio. Luciano ha rimproverato alla sua giunta di non schierare mai il collegio dei revisori al completo in occasione dei punti di bilancio. Un accenno di smarcamento come quello di Antonio Lo Schiavo che dai banchi di Libere Uguali al contrario del PD ha offerto una sponda per la metà della consigliatura che manca. In cambio ha ricevuto chiusure con la maggioranza tra le due che ha abbandonato l'aula nella discussione del suo ordine del giorno per fondere il comune con qualche ente limitrofo. Agostino Pantano per la Cineus 24. Sarà il Tribunale di Locri a decidere sulla decadenza del sindaco di Sant'Ilario dell'Oionio Pasquale Brizzi. L'udienza collegiale è fissata per il prossimo 6 febbraio. Sarà il Tribunale di Locri a pronunciarsi sull'eventuale decadenza del sindaco di Sant'Ilario dell'Oionio Pasquale Brizzi. Il Consiglio Comunale, invitato più volte dalla Prefettura a prendere atto della decadenza del primo cittadino, non ha dato infatti corso alla richiesta. Così l'Avvocatura dello Stato, su input del prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari, si è rivolta al Tribunale affinché venga sancita l'incandidabilità del primo cittadino di Sant'Ilario. Un braccio di ferro, quello tra il Comune e la Prefettura, che dura ormai da mesi. Nelle ultime settimane il Consiglio Comunale è stato convocato per ben tre volte a discutere sul caso. Mentre in un primo momento l'assise ha reiterato alla Prefettura la richiesta di accesso agli atti, nelle ultime due sedute sono saltate a causa dell'assenza per malattia del segretario comunale. L'udienza collegiale è fissata per il prossimo 6 febbraio. Prima di riconoscere il verdetto definitivo sul futuro politico di Brizzi, in carica da maggio 2014, è tuttavia lecito pensare che passerà ancora del tempo. Ilario Balì, per la CNews24. A Palazzo Campanella incontro tra i dipendenti regionali, vertici della politica e della burocrazia, il Presidente dell'Istituto Nazionale Anticorruzione per fare il punto sulle buone prassi amministrative. La giornata della trasparenza a Palazzo Campanella è stata l'occasione per un confronto sulle buone prassi amministrative e dell'anticorruzione nell'ambito della pubblica amministrazione. Al dibattito ha preso parte anche il Presidente dell'Istituto Nazionale per l'Anticorruzione, Federico Bergaminelli. Purtroppo il fenomeno della corruzione è un fenomeno endemico e non è risolvibile con un inasprimento delle pene, è essenzialmente risolvibile con una coscienza e questa giornata rappresenta, seppur un obbligo di legge, però rappresenta un momento importante di riflessione su quelle che sono le attività, perché la trasparenza è sicuramente il primo percorso di prevenzione della corruzione. Rafforzare le buone prassi amministrative e aprire ancora di più il Palazzo ai cittadini è l'auspicio per il 2018 che il Presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto, ha voluto formulare nel corso del suo intervento. Abbiamo appena inaugurato in maniera definitiva la nuova struttura burocratica del Consiglio regionale, questa renderà il Consiglio regionale molto più veloce, molto più snello, è una struttura più su misura delle esigenze di questo Consiglio, che sono la parte gestionale e la parte legislativa, che così come i numeri ci hanno dimostrato, dimostrano che la capacità legislativa del Consiglio regionale è la seconda d'Italia, abbiamo completamente abbattuto il contenzioso costituzionale, segno evidente che lavorano bene le commissioni, lavorano bene i consiglieri regionali, ma lavorano bene anche le strutture amministrative di supporto. A Catanzaro dibattito sul tema delle brutture e dei pregiudizi che ancora pervadono la nostra regione. Una Calabria che vuole essere diversa, ma soprattutto mostrarsi diversa, mettendo all'indice le brutture che ancora la pervadono e salvando per esclusione i suoi esempi migliori. L'occasione di dibattito e confronto sul tema è stata offerta dall'Associazione Le Calabrie, che ha chiamato a raccolta personalità di spicco del panorama intellettuale regionale. La nostra associazione ha un anno di vita, adesso ci siamo concentrati con un tema più chiave di lettura, la Calabria che non vogliamo e di contrasto la Calabria bella che deve emergere. Chi meglio di me come calabresse vuole cercare motivazioni, persone, eventi, fatti che migliorano e danno lustro alla nostra terra. La Calabria che non vogliamo è stato il leitmotiv della serata e argomento su cui i relatori sono stati chiamati a confrontarsi. Quello che non vorrei della Calabria è che si raccontasse sempre la solita Calabria come terra maledetta, come terra sfortunata, come terra assegnata da piaghe millenarie. Mi piacebbe che si raccontasse soprattutto una Calabria diversa che è la Calabria che noi conosciamo ogni giorno. La Calabria che non voglio io è sicuramente la Calabria rassegnata, che si accontenta del poco che abbiamo, del poco rispetto a quello che potrebbe avere questa regione. Sicuramente la Calabria che non vogliamo è quella che non riesce o non vuole a sufficienza difendere il proprio patrimonio e quindi è costretta a intervenire per garantire la conservazione di un patrimonio che oggi è messo molto spesso in discussione dagli interessi economici privati. Luana Costa per la CNews24. La scorsa notte un incendio ha totalmente mandato in cenere il laboratorio dell'ottica Faga che si trova in via Capobianco nei pressi di Piazza Duomo a Reggio Calabria. Il rogo si è sviluppato poco dopo le 23. Sono stati i residenti a notare una fitta coltre di fumo nero alzarsi dalle finestre dell'ottica, certamente ancora in corso per stabilire se il rogo sia stato causato da un cortocircuito, ossia di origine dolosa. E ancora nessun colpevole per l'omicidio di Roberta Lanzino dopo 29 anni dal delitto assolto in appello l'unico imputato. Il martirio di Roberta Lanzino potrebbe essere stato vano. Sono passati 29 anni da quella torride stata del 1988 quando la ragazza venne seviziata e uccisa. Era il 26 luglio per quell'efferato omicidio i sospetti caddero sul pastore Franco Sansone nei suoi confronti. La corte d'appello si è espressa dichiarandolo innocente. Una soluzione che pesa come un macigno sulle aspettative della famiglia di Roberta che da decenni attende giustizia per quella figlia strappata nel fiore degli anni. Per Franco Sansone il verdetto di secondo grado rappresenta una doppia soluzione. A carico del pastore per anni ribattezzato il mostro di Falconara albanese era stato aperto un altro filone di inchiesta per un presunto caso di Lupara Bianca nel quale risultava indagato insieme al padre Alfredo. Inizialmente per l'omicidio di Roberta venne sottoposto a procedimento anche un altro uomo, Luigi Carbone, scomparso misteriosamente a pochi mesi dal delitto. Ora l'unica speranza di giustizia risiede in un pugno di terriccio prelevato nelle vicinanze del corpo della giovane vittima sul quale venne rinvenuta una quantità minima di liquido seminale. Alla luce del nuovo elemento che potrebbe diventare la prova regina, gli inquirenti hanno acquisito una solida certezza. In quel pugno di terra c'è il DNA dell'assassino. Identificarne l'appartenenza, 30 anni dal delitto, potrebbe rappresentare l'unico modo per dare un volto e un nome all'assassino. Loredana Colloca per la Cineus 24. Un cinquantenne di Sinopoli è stato trovato cadavere nella vasca da bagno con il corpo ricoperto da ferite sospette e l'autopsia accerterà le cause della morte. Si attendono i risultati dell'autopsia per avere qualche certezza sulla morte del cinquantenne Francesco Antonio Garzo, ritrovato morto nella vasca da bagno della sua casa nel centro di Santo Femme da Spromonte. L'uomo pensionato viveva da solo ed è stato ritrovato da uno dei figli che da ore tentava in vano di contattarlo. Sulla vicenda indagano i carabinieri del gruppo di Gioia Tauro e i militari della compagnia di Palmi. La chiamata al 118 è arrivata intorno alle 19.30 a non essere perfettamente chiara e la dinamica di quello che sembrerebbe un incidente domestico. Una tesi che però non convince del tutto gli investigatori. L'uomo è infatti stato trovato nella vasca da bagno ricoperto da echimosi ed escoriazioni sui gomiti, spalle ed arti inferiori e con una frattura al setto nasale cagionata da un trauma che ha causato una copiosa perdita di sangue. La possibilità che si tratti di un omicidio non è stata tuttavia confermata né smentita. A chiarirlo sarà il risultato dell'esame otoptico sul corpo da Santofemia per la CINUS24. Torniamo a parlare degli alloggi assegnati da ATERP prima dell'arrivo del nuovo anno. A decollatura otto famiglie hanno finalmente ricevuto le chiavi di casa. È un'emozione unica veramente. Dopo tre anni non vedevo l'ora che arrivava sto giorno. Sono felice, sono veramente felice perché è stato realizzato un sogno comunque ed ha aiutato molte persone comunque a realizzarlo che aspettavano questa casa con ansia. Un'emozione tangibile, vibrante. Sono otto gli alloggi ATERP consegnati ad altrettante famiglie nel comune di decollatura. Visi commossi, mani tremanti durante la firma dei documenti ma anche tanta gioia. Gli alloggi di via Piano Cappuccio erano diventati quasi una chimera. Ultimati nel 2005 erano poi rimasti impigliati da un lato nelle maglie della burocrazia e dall'altro in quello di sciacalli che li hanno vandalizzati, derubati li infissi, caloriferi, porte. Ora finalmente la consegna delle villette su due piani e con giardino. A dare le chiavi il direttore tecnico dell'ATERP Massimo De Lorenzo. Gli alloggi sono stati costruiti e finiti nel 2005, quindi poi sono stati vandalizzati. Nel 2016 finalmente si riesce ad avere una gradatoria con degli assegnatari, però chiaramente il tempo trascorso li aveva un po' distrutti e quindi abbiamo dovuto rimetterci mano. Abbiamo finito i lavori nel luglio-ottobre del 2017 alle ultime competenze burocratiche e finalmente oggi riusciamo a consegnarli. E a breve potrebbero trovare soluzione anche altre situazioni di edilizia popolare bloccate. Con le modifiche alla legge regionale 32-92 approvata dal Consiglio regionale, nessun comune potrà più rinviare la pubblicazione dei bandi di assegnazione e la stessa formulazione delle graduatorie di merito avrà tempi certi e non rinviabili. Tiziana Bagnato per la CENIUS 24. Il comitato sblocchiamo la trasversale. 50 anni di sviluppo negato ha finalmente ottenuto dall'ANAS la documentazione relativa all'incompiuta superstrada che collega lo Ionio al Tirreno. Il comitato trasversale delle serre, 50 anni di sviluppo negato, è finalmente entrato in possesso della documentazione richiesta all'ANAS con l'accesso agli atti del 6 febbraio scorso relativa all'incompiuta superstrada che collega lo Ionio al Tirreno. I rappresentanti del comitato si sono dati appuntamento davanti alla sede dell'ANAS a Catanzaro con loro la parlamentare del Movimento 5 Stelle, Dalli Lanesci e 10.500 centesimi raccolti nelle ultime settimane utili per il pagamento delle spese di ricerca e supporto DVD richieste dall'ANAS a copertura dei costi dell'istanza di accesso pari a 105 euro. È assurdo che per l'accesso alle informazioni, a quel principio di trasparenza per cui noi combattiamo si debbano pagare questi costi ma al di là di tutto noi visioneremo le carte con il comitato e di conseguenza procederemo anche con atti formali successivamente. In questi mesi non abbiamo fatto altro che chiedere incessantemente di poter visionare questi documenti sulla trasversale delle serre forti anche dei 10.500 centesimi raccolti tra i cittadini che vogliono chiedere chiarezza e vogliono dire che finalmente basta questa incompiuta che dura da 50 anni. A ricevere il comitato sono stati il responsabile del coordinamento territoriale Giuseppe Ferrara e il responsabile progettazione e realizzazione lavori Giancarlo Luongo. Nel corso dell'incontro è stato fatto il punto sullo stato di avanzamento dell'opera dal riappalto di Montecucco e Vazzano. Dopo il fallimento della Cavalieri la nuova ditta incaricata è già stata individuata da ANAS e dentro gennaio saranno assegnati i lavori al completamento del lato catanzarese dell'opera per il quale c'è ancora il problema legato alla mancanza dei finanziamenti. Noi dobbiamo metterci soltanto l'impegno a servizio di tutti i cittadini calabresi per fornire servizi e per dare maggiore funzionalità alle strade calabresi incluse quelle da completare. Rossella Galati per l'AC News 24. Ed in chiusura un video che mette all'agonia chi sporca Reggio Calabria. Quasi 80.000 visualizzazioni, circa 5.000 tra like e condivisioni senza contare le centinaia di commenti entusiastici. Sta avendo un successo strepitoso il video denuncia realizzato e pubblicato dal sindaco della città metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, sulla propria pagina Facebook. Natale coi lordazzi, questo l'improbabile ma autentico titolo che Falcomatà ha dato a quello che ha definito come il vero cine panettone regino realizzato con le multe che stanno fioccando sui cittadini che hanno la pessima abitudine di abbandonare i rifiuti in strada, soprattutto lungo quelle secondarie e più appartate, lontane da occhi indiscreti. Peccato per loro, però, che le telecamere piazzate dall'amministrazione regina siano abbastanza discrete ed efficienti da averli immortalati mentre scaricano da auto e furgoni sacchi di immondizia, materiale di risulta e rifiuti ingombranti di ogni tipo. «Gustatevi lo spettacolo», ha scritto il sindaco nel posto di accompagnamento al video, «il biglietto lo hanno pagato loro, i lordazzi, con le multe che stanno ricevendo». Una vera e propria gogna mediatica che, secondo la stragrande maggioranza degli utenti, è più che meritata. Dal canto suo, Falco Matà non ha certo intenzione di fermarsi e promette nuove puntate, invitando i cittadini a inviare le proprie segnalazioni perché, da ora in avanti, assicura, verranno tutte pubblicate. Il sindaco di Reggio segue così le orme del primo cittadino di Bari, Antonio De Caro, che già da qualche tempo è ricorso al web per mettere alla berlina chi non rispetta le regole e imbratta la città. Come qualche giorno fa, quando ha pubblicato la foto di quello che ha definito lo schifoso dell'anno, cioè un cittadino sorpreso ad abbandonare un frigorifero in strada. Una bacchettata assestata via web, che il sindaco della città dello Stretto avrà sicuramente apprezzato. Enrico De Gironamo per la CNews24. Questo era l'ultimo servizio. Adesso buon proseguimento di serata con l'informazione di la C-Sport. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.